Umiltà, amore, perdono e misericordia non sono solo i cardini del messaggio di Celestino V e i pilastri portanti dell'annuncio del Vangelo, ma sono anche le coordinate della storica visita di Papa Francesco, che tra meno di 48 ore sarà all'Aquila per la 728esima perdonanza celestiniana. L'arrivo di Bergoglio nel capoluogo abruzzese sarà scritto negli annali cittadini e regionali, ma anche in quelli vaticani, perché sarà la prima volta che un pontefice aprirà la Porta Santa di Collemaggio per l'indulgenza plenaria. Domenica 28 agosto Papa Francesco attraverserà l'Aquila a bordo della sua Papa Mobile, accompagnato dal cardinale Giuseppe Petrocchi. L'evento, trasmesso in diretta sulla nostra emittente a partire dalle 8, sarà condotto dal direttore di Rete 8, Carmine Perantuono, e dai giornalisti Angelo De Nicola, storico della perdonanza, e Giustino Parisse del Centro, che sul quotidiano di oggi firma l'intervista esclusiva a Papa Francesco. Rispondendo alle domande di Parisse, Bergoglio indaga il mistero del dolore e la possibilità di rinascita dopo una tragedia immane, come quella del terremoto del 2009 vissuta all'Aquila. Gesù stesso ha fatto esperienza di vivere il buio, di sentirsi solo, sconfitto, risponde Papa Francesco, ma allo stesso tempo ci ha insegnato che proprio quando tutto sembra ormai perduto, si può fare un gesto inaspettato, fidarsi del Padre, come fece Gesù sulla croce. Non può esserci nessuna rinascita senza questo gesto di fiducia, in chi ha il potere di tenerci la mano proprio quando vengono a crollare tutte le altre certezze. Un credente sa che questa vita è solo un passaggio, un viaggio che ci conduce in una vita che non passa. Senza questa certezza nulla avrebbe senso e ogni cosa verrebbe schiacciata dal destino della morte. Col Santo Padre Parisse indaga anche sulla simbologia dell'apertura della Porta Santa, laddove il perdono, in un contesto storico in cui le guerre si prendono prepotentemente spazio, può essere una nuova chiave di lettura e di speranza per il futuro. Il male non si vince mai con il male, ma solo con il bene, annuncia Bergoglio. Ci vuole più forza a perdonare che a fare una guerra, ma il perdono ha bisogno di una grande maturazione interiore e culturale. Credo che tutti insieme dobbiamo coltivare una cultura della pace che passi proprio dalla maturazione del perdono, unica arma possibile contro ogni guerra. Cogliendo gli spunti di Giustino Parisse, sul centro di oggi Papa Francesco riflette anche sul valore della povertà, intesa come libertà dal possesso, che conduce a sperimentare la vera pace e la libertà interiore che ci fa sentire gioia per ogni cosa della vita. E infine, tornando sul terremoto dell'Aquila, il Santo Padre si sofferma sul lavoro portato avanti dalla Chiesa Aquilana, ringraziando anche sacerdoti, religiosi e religiose, che assieme ai laici hanno portato avanti una ricostruzione che non ha riguardato solo le case, ma l'anima stessa della gente. È infatti la vicinanza, la presenza, la condivisione, la carità concreta, l'ascolto, la tenerezza, il modo attraverso cui il Vangelo deve essere annunciato, specie quando ci si trova accanto a coloro che hanno sofferto molto. Non si può andare molto lontano se non insieme, bisogna lasciarsi alle spalle tutte le cose che ci dividono e valorizzare invece tutto ciò che unisce. Vengo in mezzo a voi, annuncia Bergoglio, anche per incoraggiarvi a fare tesoro del messaggio che Papa Celestino ha lasciato a tutta la Chiesa. Davvero l'umiltà, l'amore, la vicinanza, il perdono, la misericordia sono il modo più bello di annunciare il Vangelo agli uomini e alle donne di oggi e di tutti i tempi, conclude Papa Francesco.